ovviamente non è affatto con la bocca il suono è una vera motosega che ho qui sotto ma che non si vede non vi preoccupate però è quella senza spuntoni, fa male a tutti ragazzi io sono Andrea Doraz o semplicemente Doraz e benvenuti in questo nuovo video sigla oh eccoci qua benvenuti o bentornati sul mio canale come sempre vi lascio qui sotto tutti i link per seguirmi su tutti i miei social che trovate ovviamente in descrizione inoltre in descrizione trovate anche il link per acquistare il prodotto di cui andiamo a parlare oggi direttamente su Amazon se foste interessati perché oggi andiamo a parlare di un action figure interessantissima della NECA questo è un nuovo video unboxing per chi non lo sapesse andiamo ad aprire un pacchettino del mio che vado dalla mia collezione stiamo appunto parlando dell'action figure di Leatherface per il 40esimo anniversario di non aprire quella porta anche se adesso non è il 40esimo ma è il 50esimo di action figure a qualche anno ma devo dire che non li dimostra per niente questi anni perché sì da poco tempo è arrivato il 50esimo anniversario di questo film clamoroso che appunto è non aprire quella porta del grandissimo Tob Hooper probabilmente uno dei più grandi horror mai fatti del lato 1974 guarda che poi se ne parlerò al giorno andiamo ad aprire l'action figure la vediamo insieme e poi ritorniamo qui per dire due parole andiamo eccoci qua sul tavolo questa è la scatola stranissima tipo bosta che ci ha mandato il buon Amazon e l'andiamo ad aprire per scoprire l'incredibile contenuto non credo che siete pronti per questo stiamo parlando di Leatherface di Daneka questa è la splendida scatola allora abbiamo questa è la copertina del primo film di Tob Hooper del 1974 un capolavoro assoluto che vi consiglio assolutamente di recuperare magari un giorno ve ne parlerò in un video intanto ci becchiamo questa splendida splendida scatola e questa splendida action figure qui abbiamo delle immagini dell'action figure stessa qui di nuovo bellissimo vediamo che dietro è fatta con la pelle della maschera che lui indossa il nostro Leatherface questa dovrebbe essere l'edizione del quarantesimo anniversario ovviamente è una ultimate quindi si apre così a finestra e già da qui possiamo ammirare lo splendore ma andiamo ad aprirla così ce la vediamo per bene da vicino dietro vediamo i deschi di animali vedere ecco qui la nostra action figure vediamo da vicino questa è la nostra faccettina del nostro buon Leatherface qui abbiamo vedete la cravatta che lui comunque ha questa camicia l'altro qui bellissimo questo bracciale di ossa bellissimo questo diciamo questa parte qui che è fatta proprio di tessuto un tipo di pelle sembra è una pelle figa però legata dietro così dietro gli snodi sono i classici negri eh abbiamo snodo singolo qui niente butterfly joint mai visto butterfly joint poi la testa la possiamo ruotare muore appena su e giù e poi le gambe anche hanno i classici come dicevo snodi negri con un solo snodo sul ginocchio come è solo vabbè poi lo metteremo bene adesso questo è abbastanza bene i piedi cioè si tiene come vedete adesso lo appoggiamo un attimo e non vedete gli accessori allora abbiamo una seconda testa bellissima pure questa di qualche altro malcapitato una serie di accessori per far del male alla gente questo coso non si sa bene che cos'è questo gancio qui che probabilmente è quello che usa una delle scene iconiche per infilzare la ragazza e poi non poteva mancare ovviamente la motosega stupenda guardate quanto è bella un po' di luce bellissimo anche il sangue l'ho fatto ci rivediamo un attimo anche la nostra action figure con un po' di luce veramente spettacolare benissimo si è stupendo veramente stupendo è fatto veramente benissimo lo adoro mancava nella mia collezione di roba horror manca ancora qualcuno però per il momento questo non poteva non prenderlo perché veramente il film è un capolavoro e lui è un personaggio super super iconico e come vedete ha la faccia con questa maschera fatta di pelle delle sue vittime tutto molto tranquillo personaggio diciamo ci potete usci insieme insomma eccoci qua che dire che dire il nostro chiaro buon leatherface H G.D.D.A. Sawyer o anche chiamato Bubba o anche chiamato faccia di cuoio o anche chiamato faccia di pelle dipende poi dalle traduzioni è un personaggio incredibile quest'action figure lo riprende perfettamente è spettacolare è veramente spettacolare bellissima la maschera come sapete è una faccia di cuoio lui ha la maschera fatta con le pelli delle persone che uccide è veramente malatissimo malatissimo tutta la famiglia Sawyer bellissimo che ci sia una parte veramente in tessuto questa specie di parannanza che ha davanti bellissima la motosega bellissimo gli accessori bellissimo tutto e che dire un action figure che su me è perfetta una ultimate ha un prezzo su Amazon viene venduta a circa 80 euro io non l'ho pagata così perché avevo degli sconti vari quindi alla fine come se non l'avessi pagata però il prezzo è 80 euro secondo me è veramente spettacolare e se amate la saga se amate il film se amate l'horror credo che debba per forza essere presente nella vostra collezione personale è incredibile quindi spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate se avete visto il film se no no vedete insomma ve lo consiglio e ci vediamo alla prossima vi mando un mega bacione ne ho fatti altri horror della neca recuperabili ciao ciao